Allora, questo è l'autodromo di Franciacorta MX, assolutamente in anteprima, perché questo autodromo ha aperto da pochissimo, poco pochissimo, girare costa 20 euro per tutta la giornata, apre al mattino, solo nei weekend festivi, in questo momento, come puoi intuire, è vicino all'autodromo di Franciacorta, dove c'è anche il cartodromo e la pista, quindi ci mancava solo questa parte in terra, che tra l'altro mi hanno detto, voci segrete, che ne è previsto l'ampliamento, quindi cosa che stai vedendo è l'anteprima assoluta dell'autodromo Franciacorta MX, quindi motocross, la pista è tenuta molto bene, non è ancora enorme, ma fa il suo sporco lavoro, e di fianco c'è tutta la cornice dell'autodromo di Franciacorta, quindi spettacolo vero. Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti